Vanni Crisapulli, vicesindaco e assessore allo sport del Comune di Cornier. Nell'aerosport nuovi giochi, nuove attrezzature per lo sport. Ci vuoi parlare di questo progetto che è andato in porto ultimamente? Dal 4 ottobre, quando abbiamo vinto le elezioni, ho subito pensato a questa bellissima ala all'arcipelago dello sport per poterlo valorizzare un po'. Abbiamo deciso come amministrazione un intervento di acquisto di queste sette attrezzature. Il costo con risorse comunali si aggira sui 20.000 euro, però abbiamo un po' l'esempio del Covid dove tutti si sono un po' appesantiti. Si può benissimo dire che Cornier deve diventare più dinamica, un pochino più sportiva. Cornier informa, sia come informare che anche informa fisicamente. E questi sono i nostri sette attrezzi. Soprattutto li abbiamo optati tutti in metallo, perché quelli che c'erano prima, belli, tutti belli, ma erano in legno e il legno è un po' decaduto. Queste sono attrezzature da esterno, un'area fitness. Ci fa veramente piacere come amministrazione, qui non si parla del singolo divanni che è assessore, ma di tutta la nostra squadra siamo veramente contenti che siamo partiti col piede giusto. Ci è voluto un attimino, perché comunque non è che il progetto in cinque minuti lo fai, in cinque minuti puoi fare una polemica, un post un po' polemico. Il progetto ci va un po' di più, però ce l'abbiamo fatta. Abbiamo aspettato un attimino che la stagione sia favorevole e detto fatto l'abbiamo messi. Oltre a queste nuove attrezzature, comunque l'area è già dotata di tutta una serie di spazi che variano a seconda delle discipline, sport completamente diversi. Ci vuoi raccontare anche cosa si può fare in questo arcipergo dello sport? Guarda, là come avete fatto anche le riprese, ci sono le due porte di calcio che sono state messe prima ancora delle nostre elezioni. L'hava già messa anche l'assessorato allo sport che c'era prima, dove ne facevo anche parte. Abbiamo le panchine, abbiamo le altalene. E' l'unica qua in Canavese, penso anche in giro, non c'è un'area di bike trial come abbiamo noi. Quella, mi permetto, è stata fatta con le risorse del Motoclub Valli del Canavese, dove sono ancora presidente. Al comune, già tempo addietro, tutta quell'area di bike trial non è costata nulla. Siamo intervenuto il Motoclub, e io che sono presidente, solo ed esclusivamente con risorse del Motoclub per l'area. Non di certo per le moto, perché abbiamo tutte queste belle montagne dove poter andare in moto senza venire qua a disturbare. L'abbiamo solo e fatta esclusivamente per il bike trial. E abbiamo dei ragazzi che stanno incominciando a venire ad allenarsi. E questo mi rende particolarmente contento. Due ruote, motociclista... Ancora una domanda invece per quanto riguarda il futuro degli impianti sportivi. Al centro dell'attenzione, soprattutto dell'ultimo Consiglio Comunale, anche con alcune note polemiche, si è parlato di bocciodromo. Puoi anticipare se ci sono o quali saranno eventualmente il futuro di questa struttura di cui si parla ormai da tanti anni al centro dell'attenzione? Dal 1990, che è lì, ancora proprio dell'Italia 90. Sì, nell'ultimo Consiglio Comunale, giustamente dalla parte dell'opposizione, ci è stato puntato il dito che abbiamo un attimino fermato, congelato, di come vuoi, questo progetto in trasformazione della palestra. Ora, guarda, quello che posso dire ai nostri concittadini cuorniatesi di stare tranquilli. Stiamo già lavorando sul progetto futuro del bocciodromo. Non ci stiamo girando i pollici. Non siamo fermi anche su quel progetto. Ripeto, per fare un progetto ci va un po' di tempo però. Non sono quei cinque minuti del post che fai tutto. Stiamo lavorando veramente sul bocciodromo, che ci andrà un attimino di tempo, ma ci stiamo lavorando veramente tanto. Francesco Felizia, consigliere con Delega allo Sport, anche per te una domanda riguardo quello che è il progetto che è andato in porto attualmente e quelli che saranno quelli futuri. Qua, come avete potuto vedere, ci siamo subito concentrati per portare a termine questo primo intervento nei primi cento giorni in cui i cittadini hanno scelto noi e ci hanno eletto. In pratica abbiamo deciso di investire e potenziare quest'area che era già stata comunque messa su con la precedente amministrazione. Noi abbiamo comunque scelto di prendere questi attrezzi in modo da dare un mattoncino più duraturo, soprattutto per il futuro di quest'area. Noi ci crediamo molto e vogliamo, sproniamo per andare avanti e quindi aggiungere pezzi all'interno dell'area. Perché come ha detto anche il vice sindaco, sicuramente è importante anche stare in forma, visto che al di là di quello che diceva lui dell'ultimo Natale, però effettivamente in generale è importante la salute psicofisica da parte dei cittadini. Sì, esatto. Effettivamente io non posso tanto parlare perché sono leggermente sovrappeso, ma a parte questa piccola battuta, sì, ci crediamo molto e speriamo che sia utilizzato anche da tutti i cuorniatesi quest'area perché è una cosa che aiuta, soprattutto la salute. Anche a te chiedo infine, questo discorso del bocciodromo, quanto è importante poter riuscire a fare quello step necessario per dare alla città una nuova struttura sportiva a 360 gradi. Sì, allora in pratica noi abbiamo iniziato un attimino a guardare le strutture più carenti e che hanno bisogno di una rimessa nuova, soprattutto per renderle utilizzabili e abbiamo già iniziato a contattare alcuni enti, non vi anticipo ancora nulla, in modo da poter fare un discorso duraturo e che vada avanti un po' lungo il tempo. Quindi sì, stiamo un attimino cercando di fare dei progetti abbastanza corposi. Grazie a tutti.